sostanzialmente esistono due tipi diversi di canzoni la canzone quella normale che una canzone quasi sempre sulla presenza io ci sono ed è il fondamento del rock and roll va dal fiume le ragazze la macchina è assertiva e poi c'è la ballata la ballata invece una forma completamente diversa la ballata presuppone un'assenza quasi sempre un'assenza romantica sono tantissime le canzoni sono tantissimi dischi che parlano di un amore terminato poi ci sono assenze diverse per esempio quella assenza di un amico l'assenza di un amico è il fondamento della canzone di cui parleremo oggi che è wish were here dei pink floyd già il titolo stesso la definisce vorrei che fossi qui indica appunto qualcuno che non c'è più non semplicemente che è scomparso magari che si è allontanato ma non è soltanto questo è anche l'idea di qualcosa che non c'è più all'interno di un gruppo quasi tutte le band nascono con grandissime aspirazioni le stesse del rock and roll sono amici che si divertono provano a mettere insieme una musica vanno in cantina suonano con la chitarra poi più fortunati di questi diventano qualcosa di grande di enorme come nel caso dei pink floyd una cosa enorme che non può che essere differente da quella iniziale e allora si comincia a provare una malinconia un come dire un dispiacere per ciò che si era stati e non si è più nonostante se si è raggiunto magari il successo qualcosa che non si pensava nemmeno di poter acchiappare all'inizio di quell'avventura ecco wish were here è questo è tutto questo e soprattutto è la ballad definitiva che appunto ha un tono estremamente malinconico chi sono i pink floyd non credo si debba spiegare i pink floyd sono la band chiunque li ha ascoltati e chiunque nonostante siamo una band che ha prodotto che ha prodotto dischi estremamente difficili ci ha trovato dei significati e è andato oltre perché sono il gruppo psichedelico la musica psichedelica che cos'è è quella che porta il rock and roll oltre gli schemi preconfezionati quelli del semplice divertimento istantaneo cerca altri significati sia coi testi sia con le musiche sia coi riferimenti e i pink floyd sono i primi a spingere leggermente il rock and roll in quella direzione e allora rock and roll non è più roll ma è soltanto rock quindi qual è il genio che c'è tutto dietro a questa intuizione il genio è Sid Barrett colui che inventa i rolling stones e che li prende da un gruppo che semplicemente immaginava di fare pop e li porta altrove li porta altrove musicalmente ma anche fisicamente perché i pink floyd nella nella swing in london nella londra della prima metà degli anni sessanta si esibiscono in club come l'ufo l'ufa club dove ci sono luci stroboscopiche ci sono ballerine ci sono droghe sicuramente e tutti vedono e sentono qualcosa e questo succede sulle note dei pink floyd e tutto è nella testa di Sid Barrett il genio folle che vede cose e perché le vede probabilmente perché ha una dieta piuttosto pericolosa a base di caffeina e lsd ma anche perché come tanti geni contiene qualcosa dentro la propria mente che non riesce a trattenere del tutto e questo è un problema è un problema comportamentale forse sid soffre di una schizofrenia all'epoca non gli viene non gli viene diagnosticata anzi tutti gli accessi tutte le follie sembrano far parte di quel quadro e sono perfettamente inserite in ciò che i pink floyd stanno diventando però dopo un po tracimano diventano troppo sid sid barrett gira per londra di notte da solo vaga senza una meta comincia a trascurare la propria fidanzata liz si frequenta con un'altra ragazza ischimese che vive a londra iggy ma questo non sarebbe un problema ma è piuttosto scorbutico anche con loro gli amici lo invitano a casa e lui nelle cene scompare va in bagno si taglia i capelli con le forbici a caso spacca un lavandino una volta lo trovano chiuso in un armadio da dei segnali di instabilità assoluta e questo diventa un problema non soltanto per chi lo frequenta e per chi gli vuol bene ma soprattutto per la band e allora i pink floyd nel 1968 devono prendere una delle decisioni più dolorose non soltanto per una band ma per un gruppo di amici allontanare uno di loro e a farlo e roger waters che è il più caro amico di sid barrett lo fa fuori semplicemente dice tu non puoi più star dentro non ce la fai non vuoi essere aiutato perché sia waters che la madre di barrett cercano di portare sid da uno specialista ma quando arrivano sotto alla casa dello psicoterapeuta che dovrebbe aiutarlo sid si rifiuta di uscire dalla macchina si chiude dentro e non vuol saperne e allora sid comincia ad andarsi a defluire a scomparire dalla mappa e dei pink floyd e al suo posto entra david gilmore che è un suo amico anche egli lo conosce sono sono amici che hanno iniziato suonando per le strade in francia come dei buskers e david gilmore il chitarrista per eccellenza dei pink floyd la chitarra che segnerà questo grande gruppo che cosa fa lo aiuta parzialmente gli da una mano cercando di farli incidere pur con estrema fatica due dischi solisti però sid va semplicemente si chiude in casa la madre cerca di curarlo cerca di fare quello che i medici e gli amici non sono riusciti a fare per lui e noi in qualche misura ce lo dimentichiamo e andiamo a prendere i pink floyd i pink floyd che nel frattempo diventano la band incidono dischi che vendono un sacco di copie qualsiasi delle loro produzioni sposta leggermente le intuizioni del rock n roll sempre un po oltre il rock appunto e non roll è qualcosa che richiede interpretazione che porta dentro la letteratura che porta visioni dalle copertine e dai suoni che ci sono dentro il pink floyd nel 1973 incidono the dark side of the moon il disco quello che c'è sempre nelle classifiche dei dischi più rilevanti uno dei dischi che vende di più da tutti i tempi prodotto da alan parson che diventerà poi il titolare dell'alan parson project progetto più pop successivo ogni suono è calibrato all'interno vengono portati suoni concreti ed è una novità per il rock ci sono suoni di monete c'è il pulsare di un cuore tutto questo in cuffia mille ascoltatori decine di migliaia e milioni di ascoltatori nel mondo trovano significati diversi quelli che per primo si barrett aveva seminato e che ora è rinchiuso a casa sua in cambridge a cambridge e non comunica più con nessuno portare dark side of the moon e gestire un disco così così grande e così importante logra i pink floyd li rende stanchi e incidere un disco successivo a dark side il famoso disco con il prisma ottico in copertina sarà un problema però non possono fermare la macchina non possono smettere di comunicare con tutti quei milioni di ascoltatori le cui orecchie pendono dalle loro intuizioni e allora entrano in studio entrano in studio per incidere un disco nuovo ma sono sopraffatti da come dire da un senso malinconico che è rivolto sì a ciò che sono adesso perché non funzionano tantissimi rapporti interpersonali fra loro il rapporto fra gilmore e waters è sempre stato estremamente complicato e forse adesso è spinta in questo momento è spinto alle massime conseguenze non comunicano con la stampa non l'hanno mai fatto molti più in floyd però decidono di andare in studio dove peraltro perdono un sacco di tempo lo studio sono gli abbey road steward gli abbey road studios quelli famosi dove i beatles incisero appunto e birotte sono lì spesso buttano il tempo bevono giocano con dei giochi di società parlano tra di loro e cercano di decifrare qual è il sentimento che più si sentono addosso e il sentimento è questo anzi un percepire quello che sarà il punto focale dell'album ma della loro vita personale stessa ed è l'assenza cioè il disco nuovo dei pink floyd dovrà parlare dell'assenza dell'assenza di che cosa di ciò che non sono più come avevamo detto un gruppo di amici che andava e si divertiva stava con le ragazze assumeva droghe e suonava rockin roll ora sono dei riferimenti culturali ma soprattutto l'assenza di chi di sid barrett che non hanno dimenticato che è un po ciò che ricorda cos'erano i pink floyd agli inizi sid è scomparso però la sua presenza c'è all'interno di tutto ciò che fanno lo sentono avvertono la mancanza di un amico e allora decidono che tutto quel disco dovrà parlare di lui questo lo dice soprattutto david gilmore mentre roger waters come sempre è un po più defilato dirà che in realtà si quello che voleva concretizzare musicalmente era l'assenza di un amico di sid barrett ma era anche un senso generale di assenza della vita di tirarsi fuori di cercare di perforare quel muro di incomunicabilità che sarà il famoso the wall poi degli anni 80 uno dei grandi temi che accompagnerà sempre tutta la produzione di roger waters e allora vanno in studio e cominciano a mettere giù delle idee e come sempre c'è un'idea molto forte che lega tutto il disco anche musicalmente sono gli anni dei concept album album dove c'è un concetto di fondo che lo lega ecco wish were here parte con shino new crazy diamond una canzone che parla di un diamante pazzo il diamante pazzo chi è ovviamente e sid barrett qualcuno che ha avuto delle intuizioni troppo presto che ha capito delle cose in anticipo e e allora waters dice che è sì quello ma è anche qualcos'altro e l'idea di combattere il business musicale che li sta opprimendo questo è un altro grande tema della della musica soprattutto negli anni 70 l'idea di dover produrre di dover vendere di dover far cose anche se in realtà godono di una libertà espressiva enorme questa un'altra cosa che li schiaccia e allora forse in qualche misura rimpiangono per quanto folle l'opportunità che si è cucito addosso o che gli è caduta disgraziatamente addosso a sid bar cioè di essere uscito di essersi astratto completamente di essere andato in casa sui aver chiuso con quel mondo che tanto ha dato economicamente ma che li sta opprimendo e allora cominciano a incidere incidono shannon e crazy diamond e capiscono che però ci vuole un climax questa è una grande suite con dove la chitarra di gilmore lega i momenti fondamentali dell'album ma devono giungere a un punto centrale su sid barrett e su quel sentimento che rogers waters ha fissato completamente e allora stanno per incidere wish were here la canzone che al centro di tutto questo senso di essenza e di nostalgia ma c'è un momento assolutamente incredibile e questo momento che è uno dei grandi momenti letterari della storia della musica avviene il 5 giugno del 1975 appunto i pink floyd sono in studio ma uno di loro david gilmore quel giorno si sposa che è anche un momento incredibile della vita privata di un essere umano ma forse in un eccesso di staccanovismo o di distacco da quelli che sono i cliché dopo il matrimonio david gilmore torna in studio col resto della band stanno ultimando i mix appunto di shine on you crazy diamond la canzone la suite che parla di qualcuno che è rimasto bruciato scottato da aver capito le cose troppo in fretta sono tutti riuniti sala di registrazione qualcuno con gli strumenti qualcuno seduto a un certo punto mentre sono più o meno rilassati avviene un fatto incredibile entra qualcuno in studio e quel qualcuno è assolutamente sovrappeso con le sopracciglia rasate completamente calvo e in mano a una busta della spesa e allora si domandano immediatamente chi possa essere un pazzo che sta rompendo la magia presupposta delle sedute di registrazione qualcuno che lavora all'interno forse addirittura qualcuno che sta consegnando la spesa però in quel volto seppur indecifrabile molto cambiato sia waters che gilmore cominciano a identificare qualcosa poi lo guardano bene dicono ma noi ti conosciamo quale si barrate ed effettivamente essi di cui avevano perso completamente le tracce da diversi anni non si sa come non si sa perché è capitato in studio negli ebirod studios loro guardano e dicono ma se essi di lui non risponde e immediatamente bisogna fare un tentativo di cambiamento non dobbiamo immaginare più i pink floyd il grandissimo gruppo ma dobbiamo immaginare un gruppo di amici che ritrova l'amico disperso e quindi non fanno una domanda da grande gruppo non gli chiedono che cosa stai facendo stai incidendo non gli chiedono neanche come stai la prima domanda che gli fanno che apparentemente buffa e stupida è ma come hai potuto ingrassare così tanto e lui lo guarda e semplicemente con semplicità e quasi noia dice oh non è un problema io a casa mia un frigo pieno di bracciola di maiale e questa che apparentemente è una sciocchezza da così da full shakespeariano in realtà la dice lunga sulla follia e sull'apparente quotidianità che è rotta da questo ingresso di sid barrett all'improvviso poi insomma lo riconosco cercano di riportarlo a una normalità di rapporti normalità che era già persa da tempo gli ultimi tempi che sid barrett andava in giro con la band non poteva più presentarsi negli studi televisivi perché si addormentava quasi fa confondeva gli ospiti diceva dei nonsense si siedono a tavola gli chiedono di mangiare con loro lui appoggia il sacchetto della spesa e poi a un certo punto quasi tutto il tempo chiede di potersi lavare i denti non comunica con loro è assente quel sid che è cambiato dal punto di vista estetico è cambiato per sempre per i suoi eccessi o forse per una mente che si è bruciata per le troppe intuizioni però sono pur sempre una band musicale e allora decidono di fargli ascoltare shine on you crazy diamond la suite che parla di lui perché magari lui possa riconoscersi in quella canzone ma si te la ascolta e dopo un po dice mi sembro un po datata che è incredibile perché quello è un pezzo avveniristico che indica nuove forme musicali che l'indicherà per sempre però se vogliamo è anche indicativo di forse che cosa è ancora side di quel diamante pazzo forse lui è già oltre magari sta producendo forse la sua mente ha in testa musiche che i pink floyd ancora non conoscono sarà così non lo sappiamo si barretta un certo punto esce e se ne va e se ne va davvero scompare dalle vite dei pink floyd uno di loro sembra quasi certamente lo riconoscerà una volta all'uscita di un supermercato dopo aver fatto la spesa ma nessuno gli parlerà più lui tornerà a casa con la madre e quando la madre morirà sarà la sorella occuparsene di lui non comunicherà mai più con il mondo qualche gruppo ogni tanto in un moto quasi situazionista gli chiederà di produrre il proprio disco si sa soltanto che poco prima di morire scomparerà nel 2006 barrett ascolterà un video il documentario che la bbc gli dedicherà che si chiama per l'appunto crazy diamond e quando lo ascolterà dirà semplicemente non lo so l'ho trovato troppo rumoroso troppo rumoroso per uno che aveva inventato in qualche misura il rumore o meglio aveva preso il rumore e l'aveva plasmato come una forma son come una canzone che nessuno conosceva canzoni appunto è il momento di wish were here vorrei che tu fossi qui e allora i pink floyd decidono che non deve essere soltanto un tributo a sid barrett a quell'amico che ormai chissà con la mente dov'è ma deve essere qualcosa che trasporti l'ascoltatore dentro le loro sensazioni richiedono un certo intimismo qualcosa che faccia sentire quei milioni di ascoltatori in cuffia che si metteranno lì a cercare significati ad essere al loro fianco a capire perché gli manca un amico perché gli manca sid barrett e allora mentre le incidono immaginano di usare uno dei piccoli stratagemmi che spesso nel rock aiuta appunto a questo tipo di esperienza l'esperienza d'ascolto e quindi incidono all'inizio della canzone qualcuno che sta cercando di sintonizzare una radio qualcuno che cerca chissà che cosa tra le onde di frequenza e questo avviene nella macchina di david gilmore lui gira la manopola cerca delle radio e si sente un piccolissimo inserto di musica classica e la quarta sinfonia di tchaikovsky ecco questo piccolo brusio questo cercare una canzone che forse quello che faranno moltissimi ascoltatori più avanti nel tentativo di cercare magari esattamente wish you were here lentamente entra in un attacco di chitarra acustica una 12 corte di debit gilmore quindi l'abbiamo detto la ballata malinconica più lenta e questo è un riff meraviglioso è quello che definisce quella che abbiamo osato chiamare la ballata definitiva e quando bisogna ricordare che questa è una delle pochissime canzoni in cui gilmore waters collaborano per davvero molto spesso lo facevano a compartimenti stagni qui invece è diverso avviene come nei grandi momenti della storia del rock gilmore chiama waters gli si siede davanti e gli suona il riff di wish were here e waters capisce immediatamente che è un pezzo meraviglioso e gli dice suonala più lenta leggermente più lenta questa è una balla e allora avviene così e la ballata parte molto lenta poi cresce 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 ed entra tutto il gruppo nelle intenzioni di david gilmore questa dovrebbe essere una country song cioè una canzone di campagna bisogna sempre ricordare che per gli inglesi la campagna è il rifugio definitivo sia quando vuoi abbandonare vuoi staccare ma anche davvero quando vuoi accrescerla di un significato intimisti e a suo modo anche psichedelici mike holfield si ritirò in campagna paul mccarney per sciogliere tutto il peso dei beatles si ritirò in campagna con linda a produrre dischi ma anche occuparsi della fattoria e allora per rendere una canzone più country decidono di chiamare qualcuno che sappia suonare uno strumento country cioè un violino il fiddle e chiamano musicista jazz stefan grappellì lo chiamano lo pagano 300 sterline e gli fanno suonare un riff di violino da inserire in wish you were here nell'ipotetica country ballad poi però quando l'ascoltano non sono convinti e decidono che sarebbe troppo country che forse quell'idea di mancanza di assenza la vogliono creare in maniera diversa quindi queste registrazioni scompaiono dalla forma definitiva della canzone anche se qualcuno dice che si sente un piccolo frammento in sottofondo ma questa è mitologia del rock si sente invece a un certo punto la tosse di gilmore un altro di quelle ipotetiche imperfezioni che magari si tolgono e che invece qui rimane ed ha ancora di più un senso di di intimità di essere con i pink floyd all'interno di quel momento estetico e musicale in realtà si disse che gilmore voleva testimoniare che stava cercando di smettere di fumare la tosse era una tosse da ex fumatore la versione country col col violino di grappelli si sentirà soltanto nella versione definitiva quella del di una delle innumerevole migliaia di ristampe poi che usciranno nel disco nell'ascolto definitivo ed effettivamente i pink floyd fecerò bene a tagliarla perché wish were here è così perfetta semplice e intimista e cosa si dice in questa canzone si dice quindi quindi tu pensi di saper distinguere il paradiso dall'inferno cieli blu dal dolore sai distinguere un campo verde da una fretta rota d'acciaio un sorriso da un velo tu pensi di saperlo distinguere e poi c'è il refrain quello classico come vorrei come vorrei che tu fossi qui perché noi siamo solo due anime perse che nuotano una boccia di pesci anno dopo anno correndo sopra lo stesso vecchio suolo e come abbiamo trovato le stesse vecchie paure vorrei che tu fossi qui e vorrei che tu fossi qui sid ma roger waters dice in realtà parla di me di me che vorrei andarmi di come nei rapporti bisogna esserci ma bisogna anche essere assenti e questo è il grande il grande dilemma ma è davvero una canzone su sid e david gilmore disse probabilmente in partenza lo era soltanto parzialmente ma lo è diventata ogni volta che la suono io penso a sid barrett e tutto il pubblico pensi barrett tutti noi che l'abbiamo ascoltata pensiamo al diamante pazzo e bisogna ricordarsi che le canzoni anche le ballad nel momento in cui escono nel mondo sono di tutti e quindi acquisiscono significati che non si perdono più questo è un sì un disco sull'assenza ma è una canzone sull'assenza di un amico di sid barrett i pink floyd andranno avanti il disco diventerà enorme una delle pietre miliardi del rock si come abbiamo detto scompererà i pink floyd incideranno molti altri dischi alla fine si sfalderanno i pink floyd oggi non sono minimamente i pink floyd della partenza come termine di organico e quando saliranno sul palco della rock and roll hall of fame gilmore suonerà una sola canzone anzi sceglierà di scegliere di suonare principalmente wish were here ma non lo farà con waters assolutamente lo farà con billy corgan degli smashing paintings perché comunque quella canzone ormai era un tesoro di tutti quanti però abbiamo detto che è un disco sull'assenza non solo di una persona ma su di un'assenza in generale e di un'assenza che è testimoniata anche dalle difficoltà dei pink floyd soprattutto di roger waters con la grande industria musicale e allora due parole sulla copertina di storm torgerson che illustratore di quasi tutte le copertine storiche dei pink floyd all'epoca è riuscito contemporaneamente un disco dei roxy music che si chiamava country life in copertina c'erano due modelle praticamente in biancheria intima massimi nude e allora il disco è uscito con una specie di copertura per velare le nudità storgerson rimane colpito da questo tipo di copertina e decide di sfruttarle in modo diverso per la prima edizione del disco dei pink floyd che esce con una copertina gommata ma con due mani visibili due mani che si stringono che è un segno di amicizia ma le mani si stringono sono due mani meccaniche cibernetiche a testimoniare un'assenza appunto quasi quella del disco che è celato dentro ma anche quella di un rapporto umano che è difficile da stringere all'interno poi un'altra foto che diventa storica ci sono due business men in un'assenza come vedete di contorni che si stringono le mani anche qui e si stringono le mani per che cosa per forse un patto col diavolo quello che è il patto della musica rock secondo roger waters uno dei due prende fuoco ed ed ha un sottotesto anche rispetto a che cosa significa prendere fuoco cioè getting burn nel prendere fuoco essere bruciato nello slang dell'industria musicale significava non essere pagato perdere le royalties you're getting burn amico mio non prenderai nulla e c'è un particolare incredibile quando venne venne scattato questa fotografia il vento in realtà soffiò dalla parte sbagliata e quindi lo stuntman che prende fuoco per poco non prese fuoco seriamente si bruciarono i baffi dovette invertire poi scattare la foto in maniera opposta all'interno ci sono altre foto per esempio c'è un tuffatore che entra nell'acqua e non produce schizzi e tutto questo l'intenzione dell'illustrazione doveva testimoniare un'assenza l'assenza degli schizzi un'assenza di tocco umano che è il grande tema alla fine wish we're here non solo in quello nel giudizio di questa sera è la ballata definitiva quella che più richiama un'assenza e lo capiscono tutti tant'è che ci sono migliaia di cover di questa canzone l'ha fatta miley cyrus e l'hanno fatta dei gruppi reggae una in particolare una delle più recenti è stata toccante è quella che hanno effettuato i radio ed con tom york insieme a e insieme a sparklos parklos e mark linkus marlinkus è stato un cantautore delle dell'indie rock degli ultimi anni rilevante ma anche con una storia personale tristissima molto dura tant'è che si è suicidato a 47 anni e allora ancora forse la sua la sua versione è una versione che ancora di più ci parla dell'assenza sid che se n'è andato mark linkus che se n'è andato il rock and roll che se n'è andato perché se n'è andato non è sicuramente più quello che conoscevamo è una musica che ha perso la sua innocenza come accade per la letteratura come accade per il cinema sicuramente il business l'ha cambiato ma sicuramente sono cambiati i suoi protagonisti e sono cambiati pink floyd e quindi quando nella musica sicuramente rock and roll è quello che ci dà più la voglia di divertirci di uscire di fare è una musica che già nell'intenzione di elvis doveva essere erotica presente selvaggia però c'è anche il dark side non off the moon ma della musica rock quello appunto della malinconia e dell'assenza e ogni volta che questa meravigliosa ballata acustica e che già forse noi capiamo che non soltanto ci manca qualcosa di quella musica che abbiamo tanto amato ma forse qualcosa di noi di un amico di qualcuno che abbiamo perso la strada per la strada e sicuramente nulla può sintetizzarla meglio di wish were here vorrei che tu fossi qui non solo non solo non solo non solo non solo non solo mi prawda